ormai il peschereccio futura ha preso il largo dondolando sulle onde si ritrova in mezzo al mare azzurro al timone coraggioso come sempre c'è il comandante maestrale mentre garbi e i suoi piccoli ospiti si trovano a poppa è vero che ogni mare ha un nome sì io ho molto viaggiato e conosco il nome di tutti i mari questo in cui stiamo navigando si chiama mare adriatico e in questo mare ci sono molti pesci moltissimi i pesci lo scelgono per viverci i pescatori per pescare pensa che nonostante l'adriatico sia un piccolo mare qui si pesca un quarto del pesce di tutto il mediterraneo forte perché in lontananza sembra verde perché è ricco di piccoli organismi portati dai numerosi fiumi che sfociano qui sono proprio loro a dare al mare il suo particolare colore se lascio cadere questo sasso in mare quanto ci metterà per toccare il fondo non te lo so dire ma so che percorrerà non più di 300 metri come l'altezza di una piccola collina perché dovete sapere che l'adriatico è un mare basso e sabbioso ed è anche per questo che ci sono così tanti pesci e allora andiamo a pescare sì nuove avvincenti avventure aspettano il futuro con il suo carico di piccoli curiosi